A conclusione di procedure concorsuali, la SST della Valcamonica ha individuato i due nuovi direttori dei reparti di pediatria e otorino ringoiatria. Sono il pediatra Dario Magnini e l'otorino ringoiatra Giuseppe Vertolini. Entrambi i nuovi dirigenti hanno ricoperto il ruolo con l'incarico di facente e funzione. Con la nuova nomina, i reparti assumono maggiore stabilità organizzativa e gestionale, garantendo quindi maggior continuità e stabilità di servizio, oltre a creare una squadra maggiormente motivata e coesa tra tutti gli operatori delle rispettive strutture. Il dottor Giuseppe Vertolini, 57 anni compiuti, è tornato in Valle Camonica dal 2016 dopo 16 anni di esperienze in altri importanti ospedali. Il dottor Dario Magnini, 55 anni compiuti, è stato direttore medico-pediatra a Esine con una lunga esperienza. La nomina di due dirigenti già esperti della struttura, dell'organizzazione e delle problematiche della Valle Camonica è ora vista anche con particolare attenzione da tutta la sanità camuna come segnale di un'attenzione concreta al territorio.